Siamo in compagnia di Walter Ferrari, presidente di ANMIL, associazione nazionale mutilati sul lavoro. Parliamo del quarto trofeo Città di Pavia Handbike, che sarà anche prima tappa del Giro d'Italia. Un momento molto importante per la vostra associazione. Direi di sì. Per noi io sono orgoglioso di aver portato l'handbike a Pavia, con il primo trofeo Città di Pavia. Poi si è sviluppato con la collaborazione dell'organizzazione del Giro d'Italia. L'anno scorso abbiamo fatto una tappa, quest'anno abbiamo avuto il piacere, grazie ai buoni rapporti che si sono instaurati, abbiamo avuto il piacere di avere la prima tappa, la partenza del Giro d'Italia di Handbike. Quello che per noi però è importante è anche il quarto trofeo Città di Pavia, che rappresenta proprio la nostra bandiera, quello che è stato il nostro impegno, un profuso insieme all'assessorato dello sport del Comune di Pavia, che insieme abbiamo voluto portare questa specialità qua a Pavia, che è per la prima volta, e devo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati sotto tutti i punti di vista. C'è anche molta curiosità attorno all'handbike. Vuole spiegare il motivo per cui viene praticata questa disciplina? Noi siamo convinti che lo sport, innanzitutto, sia un veicolo notevole per quanto riguarda il recupero psicologico di coloro che hanno avuto un infortunio, di coloro che hanno avuto una malattia professionale, di coloro che hanno avuto un incidente anche in strada con moto, macchine e quant'altro. Abbiamo avuto la possibilità di vedere all'opera questi atleti qua, sono motivati, motivatissimi, e credo che abbiano la possibilità con la pratica di questo sport qua di recuperare la loro identità, la loro accrescere quello che è il loro io, proprio per l'impegno, per la possibilità che hanno di poter realizzare quello che in un primo tempo sembrava irrealizzabile. Quindi noi siamo convinti che per quanto riguarda l'autosteam di chi ha avuto un infortunio, di chi ha avuto un incidente, sia uno strumento decisamente valido e importante per poter recuperare anche sotto l'aspetto psicologico. Maura Macchi, presidente del Giro d'Italia di M-Bike, perché quest'anno avete scelto la nostra città, Pavia, come prima tappa, la partenza del Giro d'Italia? Allora direi che Pavia è una città molto importante, che ha dato molto l'anno scorso nella tappa che ha organizzato, pertanto la scelta è caduta così, quest'anno loro, l'anno prossimo un altro, e via dicendo, ma Pavia merita veramente perché l'impegno e l'organizzazione è stata veramente ottima e vogliamo dare quest'anno una partenza lombarda e abbiamo deciso su Pavia. Anche per il tipo di percorso, perché la gara passerà per Nungo Ticino? Certo, il percorso dell'anno scorso era molto bello, quest'anno penso che sia migliore perché è al contrario, quindi ci sarà qualche difficoltà in più, ma i ragazzi hanno bisogno di fare di tutto, per cui questo è un bel percorso.